Evitare lo spreco e innescare processi virtuosi. Ci siamo e continueremo su questa strada fatta di idee e impegno concreto. È l'impegno del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Polese in Italia Viva che in concomitanza con la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare ricorda la legge regionale del 2015 di cui è stato primo firmatario sul contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo delle eccedenze alimentari e non. E ricorda anche l'impegno istituzionale condiviso con amici e persone straordinarie come Francesco Romagnano di magazzini sociali. Ogni anno nel mondo, sottolinea il Vice Presidente, si sprecano mediamente 74 kg di alimenti a persona. Questo a fronte di oltre 800 milioni di persone sottoalimentate. Da qui l'invito a riflettere su tale problematica e ad impegnarsi quotidianamente, ricordando l'esortazione di Papa Francesco, a mettere fine alla cultura dello scarto perché lo spreco alimentare contribuisce alla fame e ai cambiamenti climatici.